Ho deciso di rammendare le calze con l'uovo di legno, ereditato, vecchio. Guardo i buchi, sparsi, tanti, sotto e sulla punta, grandi e piccoli. Li affronto simulando una pazienza antica quando il rammendo era un ricamo. Ma la mia tecnica è casuale, a volte riesce bene, a volte no. E poi in fondo mi dispiace di chiudere i buchi, perché allora dovrei chiuderli tutti. Quelli nelle tasche, quelli nelle strade, quelli nelle case, quelli nelle barche, quelli nel formaggio, quelli sulla pelle, quelli nelle spugne, quelli nello spazio, quelli che ora non ricordo, quelli che ancora non so. Sarei una chiuditrice di buchi, con la responsabilità ogni volta di chiudere un varco che è riuscito ad aprirsi.